La filosofia e la musica vivono lo stesso pregiudizio. Secondo molti, quando diventano di massa, smettono ad avere un impatto reale e un senso rivoluzionario. Ma chi ha saputo smontare questa posizione sono stati Rage Against the Machine, una band americana che negli anni 90 ha raggiunto il successo mondiale senza perdere la forza delle proprie posizioni filosofiche e politiche radicali. La musica è il potere di attraversare i confini, rompere gli assedi militari e instaurare un vero dialogo, ha detto Zach Della Roche, il leader della band. Niente chiacchiere, insomma, ma una torrenziale critica al consumismo e a un'America entrisa ancora oggi di razzismo e classismo, come da noi del resto. Fai ciò che ti dicono e ora sei sotto controllo, canta Della Roche in Killing in the Name of, brano del 1992, più attuale che mai. L'America si definisce la patria della libertà, ma la libertà principale che abbiamo è quella di entrare in un ruolo di subordinazione, spiega Tom Morello, strepitoso chitarrista del gruppo. Ha scritto a proposito il filosofo coreano Byung-Chul Han che oggi noi godiamo della libertà tra e non della libertà di. Siamo cioè liberi di scegliere tra prodotti, siamo liberi come consumatori ma non liberi di essere. A meno che, come prosegue Morello in linea con Han, non seguiamo l'unica possibilità di evitare sfruttamento per potenze, rinunciare a una vita normale. Seguendo il consiglio di Dylan Thomas, non andartene docine in quella buona notte, infuria contro il morire della luce, infuria contro la macchina.